Ci siamo, è una giornata che racchiude la bellissima cornice di bandiere bianco-rosse e dell'entusiasmo della tifoseria ospite, i rivini allunga su Ravena che pareggia domicilio con l'Agnanese, mentre si spengono le speranze dell'entigione di rientrare in gioco dopo la sconfitta con il progresso, nel mezzo alla gara con la Correggese, le azioni salienti vedono a decimo minuto il tiro dalla distanza di Tenasa fuori misura, la replica della Correggese affidata a questo pallone è recuperato a Simoncelli, assiste per forte, conclusione finale, sopra la traversa, sette minuti più tardi Piscitella tenta la solo personale, traversone al centro dell'area di rigore, in terra di nessuno, l'azione più pericolosa previene a minuto 30, Piscitella sulla trafasso, mette al centro la volere di Germinale, si spegne a lato, dalla bandierina il rimini recrimina per un fallo di mano su questo colpo di testa di Averi, l'arbitro fa segno di proseguire, nella ripresa ospiti pericolosi dalla bandierina, Tonnelli indirizza sulla testa di Pietrangeli, sfera bloccata dall'estremo di casa, mora, la Correggese crea la sua migliore palla goal con questo inserimento di Manuzzi, su assist dell'ex Simoncelli con il pallone che si perde al lato di un nulla, il rimini poco dopo la sblocca, Piscitella apre per Calegaro, l'ultimo arrivato in bianco-rosso giustifica il movente del suo arrivo, gol pesantissimo considerando quello che sta succedendo nel frattempo al Benelli di Ravenna, la Correggese prova a pareggiarla, la discesa di Forte si spegne sul petto di Cali che conclude l'azione del compagno sul fondo, l'umidi classe, l'ex Nova Florida Ferrara prova il tiro a giro all'insigne, mora, non cuore rischi, ma l'ex Nova Florida risponde presente poco dopo, azioni si sia del rimini, vediamo solo la parte finale con Averi che arriva alla conclusione, mora rispinge sulla ribattuta, Tonnelli mette in mezzo e girata vincente a cura di Ferrara gioco, palla ed incontro a favore del rimini, nel finale si rivede anche Arlotti che torna in campo a distanza di 7 mesi, altra bella notizia per la compagine bianco-rossa grazie a tutti